Ritorna sul ring Carmine Tommasone che il 30 novembre prossimo a Firenze affronterà il messicano Giovanni Martinez sulla distanza delle sei riprese. Un match di rientro e di preparazione inserito nel sottoclou del titolo Silver WBC dei pesi cruiser tra Fabio Turchi e l'inglese Tony Conquest. Mr. Wolff arriva a questa sua nuova sfida ancora imbattuto dopo 18 match da professionista e dopo aver conquistato in ordine il titolo italiano, quello intercontinentale, è quello dell'Unione Europea, sempre nei pesi piuma. È un incontro che segna un momento importante della carriera del campione di contrada che dopo questa sfida di rientro nel prossimo mese di febbraio dovrebbe affrontare per il titolo europeo dei pesi piuma lo spagnolo Chico Martinez, ex campione mondiale della categoria, che recentemente ha conquistato il titolo continentale superando il connazionale Vidale, il quale a settembre scorso avrebbe dovuto sfidare Tommasone per la corona europea. Poi il match saltò per mancanza di accordi economici. La riunione di Firenze del prossimo 30 novembre organizzata dalla OP Science 82 sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Dazun. Una riunione scoppiettante che vedrà protagonisti anche il torinese ma originario di Foggia Andrea Sugar Ray Scarpa che si scontrerà con l'ex campione britannico Joe Huggs per il vacante titolo europeo Ebu dei superleggeri ed il veneto Davis Boom Boom Boschiero che sfiderà l'ex campione europeo Martin J. Ward per il titolo WBC International Silver dei superpiuma.